Un minuto di spoiler Che tu racconterai in un minutino qualcosa che possa incentivare le persone A venire a vedere proprio la tua opera durante le giornate del festival Che ricordiamolo saranno dal 17 al 21 settembre Quindi caro Ludovico se tu sei pronto Io tra 3, 2, 1 faccio partire il tuo minuto di spoiler Allora l'intervista in mare è un film ibrido È da una parte un documentario sicuramente Ma dall'altra è anche un film di fiction Questo deriva dalla genesi e poi dallo sviluppo del progetto Perché tutto nasce da una ricerca sul settore della pesca di cattura Io sono un sociologo e da sempre studio sia il cinema sia i settori lavorativi Sono partito con questa ricerca nel 2019 E ho cominciato ad imbarcarmi in peschereci in giro per tutto l'Italia Dalla Sicilia a Mazzara del Vallo Dalla Calabria a Chioggia e in giro a Puglia eccetera E mi sono portato la telecamera per osservare Mi sono reso conto subito che c'era del materiale incredibile Poi l'osservazione è durata tre anni Alla fine avevo l'Italia di ore di materiali che andavano comunicati O si faceva una serie oppure ho pensato che attraverso la fiction Ecco la fiction che arriva e diventa cinema in tutto e per tutto Attraverso un solo personaggio e raccontando una storia inventata Ma presa tutta e direttamente da quanto dalle decine e decine di interviste Realizzate nei peschereci stando con i pescatori Nelle battute di pesca di notte 15, 16, 17 ore Un solo personaggio che desse voce a tutti i pescatori Perché? Perché il settore Ok però adesso ti devo interrompere Ludovico Perdonami perché sei proprio Abbiamo quasi fatto due minuti di spoiler Qui ci stai raccontando troppo Hai già dato dei bei dettagli devo dire Quindi credo che le persone saranno incentivate Veramente a venire a vedere la tua opera Non ti preoccupare Senti comunque tu ci sarai durante quelle giornate no? Sì ci sarò Molto bene sai che Noi di Radio Academy siamo in sala stampa Quindi lì guarda ti diamo veramente più di un minuto lo giuro Quindi potrai raccontarci tutti questi meravigliosi dettagli Ludovico io ti saluto E ti auguro un grosso imbocco al lupo per il festival Grazie Grazie Buon lavoro Grazie Ciao